Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video E mi vedete di costa qui visto che non faccio video già da un po' E io devo riuscire a un video almeno ogni 2-3 giorni E vi dico questa cosa perchè tra poco uscirà il nuovissimo video di Minecraft Come vedete ho molti altri giochi Slender, Minecraft Server, Payserver che se volete giocare con me GTA San Andreas, MTA San Andreas, Mad Brain, Crysis 2, F1 un gioco di macchina bellissimo Grand Theft Auto non lo ho calcolato perchè non mi funziona bene MC Patch non è un gioco FTB wow E la nuova cosa di The Wolf unico cosa Se volete giocare con me ad Assassin's Creed 3 sono disponibilissimo Perchè qui ho Uplay E adesso vi faccio vedere Assassin's Creed 3 Un secondo che lo sta caricando Perchè io ho Assassin's Creed 3 Perchè se vedete nella mia descrizione Avvio Uplay un secondo Sta caricando Se vedete nella mia descrizione mi stavo dicendo C'è Vi fa vedere praticamente che io sono Io ho Assassin's Creed 3 ragazzi Quindi non pensate che non ce l'ho perchè io ce l'ho Assassin's Creed 3 Ecco Assassin's Creed 3 Ultima partita sabato 9 febbraio 2013 16-6-29 Tempo poco tempo fa Quindi ragazzi sono Super di Quarza 7 E il nome di mio fratello lo uso insieme a lui Quindi mi registro così su Uplay Quindi giocando online io ragazzi giochevo un po' su Super di Quarza 7 Un po' su Super Michael 3000 Il mio vero coso visto che lo gestisco con mio fratello Quindi ragazzi da me è tutto Vi volevo solo far vedere Che io ce l'ho Assassin's Creed 3 Vi posso far vedere che già sono a Conor Quindi Niente da me è tutto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti